Il contesto in cui viviamo sta cambiando a una velocità incredibile mai vista prima, maggiore della nostra capacità di comprendere il cambiamento stesso, perché cambia una velocità esponenziale e il nostro cervello non è abituato a decodificare questi cambiamenti. Due esempi per specificare quello che intendo. Il tempo impiegato dalle varie tecnologie per raggiungere 50 milioni di utenti, 38 anni la radio, 13 la tv, 3 anni internet, 1 anno Facebook, 9 mesi Twitter. La capacità computazionale è acquistabile con 1000 dollari. Nel 2000 si poteva acquistare la capacità del cervello di un insetto, nel 2010 quella di un topo, oggi si può acquistare la capacità elaborativa del cervello umano, nel 2050 quella dell'intera umanità. Quindi in un mondo che cambia serve un nuovo modello di società e questo modello è la società 5.0.